Nella serata di mercoledì 27 dicembre intorno alle 18.30, a seguito di una segnalazione di anomalia nelle strutture della Galleria della Limina da parte di un utente in transito, è stato effettuato un tempestivo sopraluogo congiunto tra i vigi del fuoco e il personale dell'ANAS all'interno della galleria in prossimità del chilometro 20.9 per la verifica della problematica segnalata, uno scolo continuo di acque. Dal sopraluogo è riscontrato che l'acqua di falda presente nei terreni sovrastanti della galleria veniva correttamente captata da un pannello collegato ad opere murarie, poi regimentata all'interno di una cunetta presente nella stessa galleria. Dunque non sono state riscontrate problematiche circa la stabilità delle strutture e la stessa ANAS a precisare quanto segue con un comunicato stampa. A tal proposito, lo stesso ente, per garantire una corretta gestione della struttura della Galleria Limina, ha evidenziato come viene costantemente e giornalmente ispezionata dal personale tecnico ANAS. L'ANAS dunque conferma che sono in fase anche di ultimazione le attività di progettazione necessarie per definire l'intervento poi stesso per la messa in sicurezza di tutta la Galleria Limina, intervento che si realizzerà con interruzioni del traffico prevalentemente in orario notturno e prenderà avvio dopo le procedure formali di approvazione del progetto e comunque entro il prossimo mese di marzo 2024. Sicuramente dopo questa precisazione hanno tirato un sospiro di sollievo molti automobilisti preoccupati dopo i falsi allarmi dei giorni scorsi per la tenuta della struttura della Galleria.